Sconfitta che secondo me non ci deve ridimensionare, anzi ci deve dare spunti perché siamo coscienti di non aver fatto una buona partita pur facendo 80 punti, non abbiamo difeso come al solito, loro sono stati bravi perché oggettivamente sono stati bravi, hanno fatto tanto canestro sia sui nostri errori, tanti, che sulle loro capacità e sono tante anche quelle. Quindi è una partita dopo 5 vittorie non pensavamo di essere imbattibili e dopo una sconfitta non pensavamo di essere scarsi, semplicemente questo, onestamente c'è poco da dire, se la sono meritata, l'hanno voluta più di noi, probabilmente abbiamo tanto su cui lavorare ed è un bene perché comunque i cavalli vincenti si vedono l'arrivo, non si vedono certa la partenza. Diciamo operazione intensità la chiamerei, oggi secondo me non siamo stati abbastanza intensi, non siamo stati intensi come sappiamo essere, quindi che sia Ferentino, Domenica, che sicuramente è un'ottima squadra, che si è rinforzata anche tanto o che sia l'ultima in classifica, noi deve cambiare il giusto, dobbiamo andare lì, dobbiamo riprendere da dove abbiamo lasciato oggi e ridarci un po' di spinta, un po' di brio perché oggi ci è mancato e niente drammi però dobbiamo andare lì concentrati sapendo che veniamo da una brutta partita, ce lo dobbiamo dire, lo sappiamo, però sicuramente non è questo un dramma e non è sicuramente la sesta partita del campionato che ci pregiudica o ci fa giudicare male noi stessi.